La carne a cuocere è davvero tanta e il clima è rovente. Il tema sanità ancora una volta al centro di un consiglio comunale straordinario. Il sindaco Pierluigi Biondi non le manda a dire. È la prima volta che parla a Rete 8 della questione sanità. Dopo anni di lulla, secondo lui, si sta strumentalizzando il tema, mentre i risultati del governo di centrodestra sono sotto gli occhi di tutti. Io credo che si stia facendo solo propaganda politica. I risultati del centrodestra sono sotto gli occhi di tutti. Il piano di riordino della rete ospedaliera, l'avvio dei lavori di realizzazione della centrale del 118, la deprecarizzazione della ASL, i nuovi concorsi per i primari, la presa in servizio di decine e decine di operatori. Porremmo parlare ancora di quello che si sta facendo sul nuovo piano, sulle liste d'attesa che ha lanciato la regione Abruzzo. Gli investimenti infrastrutturali, dal nuovo pronto soccorso alla robotica chirurgica. A breve ci sarà un nuovo angiografo per l'ospedale. Anche sul tema dei nuclei di cure primarie, la sua posizione è netta? Secondo me è un falso problema e lo dico con assoluta tranquillità. Riguarda medici che si contano sulle dita di neanche due mani e c'è dietro anche un interesse economico che non viene specificato. Ho chiesto già tempo fa i dati sulla mobilità intranucleo, chiamiamola così, cioè quanti pazienti di un medico si rivolgono all'altro medico che è associato e non mi sono mai stati dati. Ci sono tanti giovani medici invece che aspettano il rinnovo del contratto e prenderanno invece emolumenti più importanti rispetto agli attuali. Il sospetto che ci sia una mano politica lo dice anche i protagonisti della protesta, tant'è vero che una parte del sindacato della Federazione dei medici di medicina generale hanno criticato questo approccio e il coinvolgimento della CGL. Ma per le opposizioni non è così, i servizi sono sempre meno, le liste di attesa sempre peggio, la casa di comunità è stata collocata all'interno del San Salvatore e non altrove e poi bilancio il passivo e tanto altro. La situazione è nettamente peggiorata in termini di servizi erogati, in termini di liste d'attesa, soprattutto sulla medicina territoriale, con scelte folli, quale ad esempio quella di mettere la casa di comunità all'interno dell'ospedale e non invece lontana da esso per aumentare e migliorare il servizio sul territorio. Siamo di fronte ad una sanità che ormai si sgretola e che mette in difficoltà e soprattutto non eroga quel servizio che i cittadini meriterebbero e che quindi anche a fronte di un bilancio dell'azienda sempre più negativo con 66 milioni di euro di debiti dello scorso anno, veramente è un quadro preoccupante rispetto. Grazie. Grazie. Grazie.